ah vabbè dai ma non so ma facciamo quella difficile oppure ma che spusse da, da dentro è schivo aspetta, mannaggia aspetta recuperati mannaggia rapporto ah oggi niente tappane comunque bene ah 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 l'abbiamo fatto no quella è già finita prima, prima adesso ha fatto ah mai fatto vediamo la camera la camera posso? si si ah 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 Poi che aspettiamo un attimo Vabbè dai, vieni a meno Eh, ho paura di no Ah ma ci sei? Ah ci sei? Avevo paura che Mai fatto Ah, tagliate la termica Ah, termica magari costosa Eh, sì, beh Beniamino proponeva di andare a sinistra No, non l'ho mai fatto a sinistra Anche io Non so se è facibile E dove va Vabbè, chiederemo su forum Chiederemo su forum Beh, questa sicura Non è proprio così tanto Eh, mappa questa Eh? Mappa questa Eh sì Però vedo beniamino che Te la cavi bene Eh Un'altra 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Andresi è subito sfionato E' bello che c'è un altro litro di zaino manco utilizzato Devo portare via una burata solo adesso E' bello che c'è un'altra Grazie a tutti